eccoci qua benvenuti alla venticinquesima puntata di domenica e oggi davvero sarà una puntata bella specialissima perché vogliamo fare una grande festa cominceremo proprio con una bellissima festa piena di amici carissimi e questa festa è dedicata a un grande a vincenzo mollica che ieri è andato in pensione e ci saranno tanti 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 amici che lo festeggeranno un uomo che ha portato intanto 40 anni in rai che ha portato la cultura ma soprattutto un uomo gentile un uomo buono al quale tutti vogliamo bene dopo la festa vincenzo mollica voglio subito dirvi che abbiamo anche un filmato che ci hanno andato adriano cenentano e lo ringrazio pubblicamente grazie adriano grazie claudia un montaggio fatto da adriano proprio ed è un regalo per il nostro vincenzone mollica e ancora musica sanremo con marco masini le vibrazioni michele zarrillo e poi vogliamo ricordare un grande dello spettacolo a volte i grandi non vengono ricordati è quello che invece noi oggi a domenica in vogliamo fare ricorderemo renato rachel con la moglie e con il figlio e poi il ministro delle politiche giovanili e dello sport vincenzo spadafora avremo gli ultimi aggiornamenti del coronavirus e poi ragazzi ragazze signore la nazionale italiana campioni del mondo di palla nuoto questo e altro a domenica in a tra poco qui sono Grazie a tutti